ciao ragazzi eccoci qua di nuovo con un altro capitolo della serie è l'ultimo della serie perché purtroppo siamo stati eliminati dal tornare spazio games contro il team dei survivors e quindi non credo che farò altri episodi di questa serie anche perché ora con l'uscita di destiny probabilmente sarò anima corpo e mente su quel gioco quindi tempo per questa serie qua non ce ne sarà più che dire speravamo di fare meglio di quanto abbiamo fatto nel torneo ma purtroppo i survivors si sono rivelati in un avversario più duro di quanto ci aspettavamo ci aspettavamo e niente sono state comunque è stata comunque una bella partita all'inizio ci hanno preso molto la sprovvista in quanto non ci aspettavamo un avversario così agguerito ma soprattutto così compatto però diciamo siamo riusciti comunque sia a fare qualcosa e la partita è finita uno a uno quindi comunque sia non abbiamo perso per superiorità del nemico ma per decisione arbitrale se così si può dire in quanto il moderatore ha stabilito che passasse il turno il team con con più round vinti scelta condivisibile o meno alla fine comunque sia i i survivors a giusto appunto avevano vinto in questa mappa che state vedendo voi ora torre idrica per 4 a 1 per gli altri quartieri sono finita 3 a 3 e 4 a 3 e e quindi per la differenza di due round si sono qualificati come il miglior team al posto nostro e ho scelto di farvi vedere questo questo video cioè di questa mappa anche perché comunque sia credo possa fare anche una buona pubblicità di survivors perché è vero sono stati migliori sono stati più bravi niente non ho molto altro da aggiungere vi lascio alla visione del video tranne per l'ultima scena che vedete che vedrete alla fine su su diga dove dark and falcon ha fatto un colpo da biliardo con una monotone ha uccisi gli ha uccisi tutti e tre e mi è sembrato giusto metterlo perché comunque sia non è un colpo che si vede tutti i giorni complimenti dark and se ti fossero venute più molotov magari forse la storia sarebbe cambiata anche perché non so come ma gli avversari avevano un credo un fornitore personale di granate e molotov che era una roba assurda noi aprivavamo le cassette venivano fuori solo granate fumogene un turista laggiù bomba in bomba devo medicare coprimi le spalle bomba armata 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 un minuto ok ci sono un attimo aspetta finito andiamo ok 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 bomba armata occhio bomba innesca steso ok 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 un'uniforme laggiù in guardia bomba innesca c'è un'uniforme laggiù bomba innesca quanti un minuto ok ci sono ok ci sono un attimo ok ci sono un minuto finito andiamo un minuto un minuto un minuto un minuto resisti prendi il mio posto devo incerotarmi uno in meno un cacciatore in meno un cacciatore bello sta in guardia ok ci sono occhi aperti ok fatto coprimi finito andiamo un minuto sta in guardia finito finito andiamo bomba armata finito andiamo finito andiamo 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 Ok, fatto Bomba armata Brugia, vagabundo Finito, andiamo Finito, andiamo Finito, andiamo Finito, andiamo Finito, andiamo Cerchiate cacciatori nell'aria, ma prudenza, muoversi Certo Un attimo Ho finito, muoviamoci Got him Ok, fatto Un attimo Ho finito, muoviamoci Ok, fatto Cacciatore Ottimo lavoro Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo